Guardi, innanzitutto abbiamo una centrale operativa che funziona benissimo, funziona H24, la sera non possiamo avere le stesse unità e le stesse pattuglie che abbiamo, che impieghiamo durante l'arco della giornata. Capisce bene che se una pattuglia è impegnata nel rilevamento di un incidente stradale al di là di un incidente mortale, comprende bene che la priorità è rilevare l'incidente e quindi in base alla gravità può spostarsi sugli altri interventi.